Napolitano vi ha dato degli xenofobi ieri, ha detto, rappresentate incarnate la forza xenofobia italiana. Napolitano ci ha dato degli xenofobi, io e Fedriga quereleremo l'ex presidente Napolitano e ricordo agli italiani che questa è un'offesa non tanto alla dirigenza della Lega quanto a milioni di elettori della Lega, detto da Giorgio Napolitano che... Perché non rinunciate alla querela? Non devo difendere il capo dello Stato. E' fortissima, vivace, contrapposizione politica. Nella sua carriera politica ne ha fatte più che per Bertoldo, detto da una persona come Giorgio Napolitano, sinceramente... Io ricordo quando inneggiava i carri armati che entravano nei paesi dell'est negli anni 50, ricordo le polemiche dei rimborsi facili con l'ex presidente Napolitano, il parlamentare europeo, ricordo la legge Fornero firmata da lui e quindi quei governi molti... Insomma con Napolitano avete il dente ammelenato. E ne ha fatti Napolitano.